Ah sì, quello me l'hanno regalato quando mi sono separato per consolarmi. Beh, in realtà è il contrario. Dopo che si sposano le donne sono infelici, altri uomini sono felici. Dopo, quando si separano, invece gli uomini diventano dei miserabili. Invece le donne rinascono. Lo dicono le statistiche, poi non è detto che per tutti vada così. Allora, signora Miglietta, tu è tutto a posto, non c'è assolutamente niente. No, in che senso? Tutto posto? Sì, tutto pulito. Scusi, mi avevano detto che c'era, c'era una massa. C'era una massa. Sì, 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 lo so, ma vede, l'icografia ha sempre un certo margine di errore. La risonanza? No, non mette. Si è trattato di un falso positivo, ma lei sta benissimo. Signora, io capisco che debba essere stato molto stressante per lei, ma purtroppo capita. Sì, sì, ma scusi, ma che si fa così? Prima mi dite che c'è una massa, poi mi dite che non c'è la massa e che è tutto a posto. No, 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 io infatti mi scuso a nome dei colleghi che dovrebbero sicuramente essere più cauti quando comunicano queste cose. Però adesso concentriamoci sull'aspetto positivo, signora, no? La risonanza è pulita, quindi lei... È tutto a posto. Signora, è tutto a posto? No, cioè, voi, voi, voi... Cioè, vi rendete conto che mi avete fatto fare un casino? Un casino? Mi avete fatto fare, non lo so, una cosa che... che io volevo fare, volevo fare, ma... Ma adesso, cioè, che poi uno nel dramma generale certe cose se le può permettere, ma così, scusi... perché mi guarda così, scusi? Scaracci, per favore. Signora, forse lei di questo scossone aveva bisogno? Ma non ha per forza bisogno del dramma, no? Mi sembra che basti e avanzi quello che prova lei, quello che sente, non trova? Stia tranquilla e vedrà che qualche cosa le verrà in mente su che farci con questo gran casino. Stia tranquilla e vedrà che qualche cosa le verrà in mente su che farci con questo